La nomina era nell'aria, è ufficiale, sarà Alberto Stefani, numero uno del Carroccio in Veneto, uno dei due nuovi vice segretari della Lega. Lui e Claudio Durigon, laziale sottosegretario del lavoro, andranno ad affiancare Andrea Crippa, prendendo il posto del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Tutto come previsto per il giovane deputato Veneto, ex sindaco di Borgo Ricco e presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Un'emozione grande, io cercherò ovviamente di offrire il mio massimo supporto al partito, io sono in questo movimento dall'età di 15 anni e quindi non può che essere oggi una grande emozione per dare il proprio contributo a quello che è il movimento nel quale sono cresciuto. Moderato, ma da sempre a fianco del segretario Matteo Salvini, Alberto Stefani ha ricevuto un mandato di tipo organizzativo legato ai congressi regionali che restano da celebrare e al futuro congresso federale. Un approccio diciamo molto gestionale, tra parte io ho avuto la possibilità di ricoprire questo incarico sia a livello provinciale a Padova, Venezia, poi a livello regionale e oggi diciamo a livello nazionale. Cercherò ovviamente di mettere al servizio del partito, nonostante la mia giovane età, con le esperienze che ho avuto nella gestione del movimento. Un movimento da rilanciare partendo da quella che Stefani considera la sua forza, l'identità, che deve tornare al centro dell'azione della Lega, aggiunge. E guardando al Veneto, Stefani da più parti candidato in pectore per la Lega come futuro presidente della regione rilancia. C'è ancora margine per un terzo mandato a Luca Zaia. Sto lavorando, anzi sono il primo firmatario, quindi anche pubblicamente, della proposta di legge per il terzo mandato di Zaia, perché credo che Luca Zaia debba avere la possibilità di fare un altro mandato. Ovviamente ci deve essere la convergenza politica di tutte le forze politiche che ci interessa. Abbiamo visto che Forza Italia si è chiamata fuori, lanciando Tosi. Noi abbiamo un'idea diversa, l'idea che la regione Veneto debba restare a guida leghista per continuare il percorso di autonomia che abbiamo lanciato, per renderla effettiva.